Ciao, ma, allora! Ciao, ma, allora! I miei miei figli! Vi ho già detto, signore, che non c'entro niente con quell'articolo anonimo. È una bugia, e lo sapete. Ma non ho tempo per le sciocchezze. Sono il mio nome e la mia reputazione che avete infangato, signore! Il mio nome! Vai, accidenti, vai! Quello è Richard Owen, un uomo vile, indegno e abbietto. Davvero? Sembravate ottimi amici. Owen lavora al manicomio. Lui sa chi faceva l'Elisir. Presto! Presto! Non c'è, non c'è! Non c'è! È così. Oh, oh! Rimpazza, muoviti! Non so quanto paghi, Darwin, ma non abbastanza. Hai idea del guai in cui ti trovi? Non credo. Se speri di dirgli, furfante, stracchi il tuo tempo! Sono sempre chiesto quanti colpi sopportino queste carrozze. Solo qualche domanda per voi, signore! Non so cosa voglia Darwin, ma non lo otterrà! Avventi questo! Avventi questo! E riguardo all'elisir lenitivo di Starry? Elisir lenitivo? Noi scienziati non ci curiamo degli elisir. Eppure scommetto, signor Owen, che sapete qualcosa. Ora basta! Ti ho già detto che non ne so niente! Lo giuro! Non ho nulla a che fare né mai l'ho avuto con chiunque stia vendendo quegli intrugni! Forse vi dite la verità, ma sapete chi l'ha creato, quindi parlate! Prossima fermata, il Tamigi! Meglio che parli vecchio mio! No, per l'amor di Dio! Fermate! Ti rivelerò quello che so! Ehi, come! Il Dottor Ellison! Il Dottor John Ellison! È lui che ha inventato l'elisir! È lui che vuoi! Non me ti imploro, ragazzo! Ora basta! Visto? Non era difficile! Sì! Ciao! Così si fa! Che cavallo ubbidiente! Così! Vediamo! Questa lo hai sentito? Ti avrà sentito? Ti avrà sentito! Ma per altri tuoi! Non lo hai sentito? Uppure! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Oh! No, 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 no. Sì, 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 sì. Grazie a tutti.